È il coronamento di tutto quello che è stato fatto nel mondo della cosmesi, una celebrazione della bellezza in tutte le sue sfaccettature. È la Milano Beauty Week, la prima edizione che si terrà nel capoluogo lombardo dal 3 all'8 maggio. Insieme alle eccellenze italiane, quali la moda e il design, Milano farà conoscere un altro settore manifatturiero trainante del Made in Italy, che mira a diventare un appuntamento annuale. La Milano Beauty Week è un'iniziativa di Cosmetica Italia, in collaborazione con Cosmoprof ed Exsense. È un progetto culturale, perché l'obiettivo è quello del reputation del nostro settore. Abbiamo lavorato affinché molti gruppi, molte case cosmetiche partecipino, ma la partecipazione sarà soprattutto quella dei consumatori, dei visitatori, che avranno l'occasione di capire meglio che cosa usano e che cosa c'è dietro a tutto quello che usano. Un rilancio del settore che dopo il Covid è stato colpito dalla guerra in corso tra Russia e Ucraina. È un rilancio, il momento non è quello migliore purtroppo, visto i venti di guerra che ci sono, però noi l'avamo già programmata. Io credo che sia anche un atto di bellezza e credo che l'atto di bellezza migliore sarà quando si siederanno a un tavolo e riusciranno a risolvere tutti i problemi che hanno causato questa guerra. Anche il mondo della cosmesi risente come tutti delle sanzioni economiche e delle conseguenze del conflitto nel cuore dell'Europa. Il settore cosmetico è 11 miliardi e 7, di cui il 40% è all'esportazione e il 3% dell'esportazione va verso la Russia, per cui stiamo parlando di 150 milioni. Questo è l'effetto diretto per le aziende che esportano, però noi sappiamo che all'interno degli 11,7 miliardi del settore cosmetico un miliardo viene quasi, se non di più, rappresentato dai terzisti. È chiaro che quello comporterà per tutti i terzisti un abbassamento di fatturato. Grazie.